dei crostini di polenta buonissimi e versatili questi con lo speck e formaggio sono i miei preferiti ingredienti 200 g di farina di mais giallo o farina per polenta precotta un litro d'acqua sale grosso 70 g di speck 70 g di formaggio che fonde e 30 g di parmigiano grattugiato il pepe solo se gradito su instagram siamo già 20 mila puoi anche lì vedere video salvare le tue ricette preferite creare il tuo ricettario seguici e facci seguire anche per non perdere le nostre dirette per prima cosa prepariamo la polenta proprio come nella ricetta che vi lasciamo in descrizione lasciamo la polenta sul fuoco girandola continuamente per renderla abbastanza dura dopodiché la mettiamo una forma rettangolare livellandola bene la lasciamo raffreddare a temperatura ambiente e poi in frigo fino a quando sarà bella solida quando la polenta è ben compatta la tagliamo per ottenere dei crostini lo spessore sarà circa quello di mezzo centimetro li inforniamo sulla carta forno sotto il grill per 7-10 minuti li dobbiamo far approstolire leggermente nel frattempo tagliamo lo speck a listarelli dei 3-4 mm di spessore e anche il formaggio filante lo abbiamo utilizzato la scamorza sforniamo i crostini li farciamo con lo speck il formaggio e il parmigiano grattugiato che formerà una crosticina croccante inforniamo di nuovo sotto il grill per far sciogliere il formaggio e abbrustolire lo speck serviamo infine con una grattata di pepe nero sul nostro sito trovi tutte le informazioni nutrizionali di questa ricetta e se ti è piaciuta metti un bel mi piace ancora meglio se scrivi un commento con le tue impressioni dubbi o perplessità ti ricordiamo anche di cliccare sulla campanella dopo esserti iscritto in modo da ricevere in anteprima tutti i nostri video cuoca del giorno paola saprio con questi splendidi brutti ma buoni a noi sembrano buonissimi e a voi scrivetelo nei commenti e noi aspettiamo anche le vostre foto all'indirizzo in sovraimpressione o al numero whatsapp che compare a video questi crostini dureranno ben poco buon appetito se questa ricetta vi è piaciuta mettete un like un mi piace e condividetela più possibile con i vostri amici e parenti e poi vi ricordiamo di cliccare sulla campanella in modo tale che sarete avvertiti ad ogni nostro video e potrete vedere in anteprima le nostre ricette